Sono partiti come dei volantini contenenti una satira diciamo pseudopolitica e poi soprattutto negli ultimi tempi sono sfociati in offese, violenze verbali e diciamo degli insulti sessisti nei confronti della mia persona e nei confronti del ruolo anche che ricopro. Da circa un anno Simona Neri sindaco di Laterina per Ginevaldarno era vittima di attacchi diffamatori con volantini messi in giro per il paese spesso a sfondo sessista. Adesso i carabinieri hanno individuato e denunciato per diffamazioni i responsabili. Si tratta di un informatico già rappresentante politico della zona e un imprenditore, un 34enne ed un 35enne ed un impiegata di 30 anni sempre di Laterina. Ad incastrare gli autori delle sgradevoli pubblicazioni sono state le telecamere di videosorveglianza. Le indagini dei militari del nucleo operativo della compagnia di Arezzo si sono concentrate sulle caratteristiche di stampa dei volantini e sui movimenti delle auto nelle aree dove questi ultimi venivano affissi. Le immagini hanno così consentito di individuare i tre che sono stati denunciati per il reato di diffamazione aggravata. Nel corso delle perquisizioni inoltre sono stati sequestrati loro smartphone, computer e documenti il cui contenuto ha permesso di raccogliere elementi a sostegno del loro coinvolgimento nelle ipotesi di reato contestate.